Musica Un cordiale saluto, ben ritrovati e ben ritrovate a Question Time, la rubrica realizzata da Trentino TV in collaborazione con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. E siamo proprio con il Presidente del Consiglio, Claudio Soini. Ben arrivato nei nostri studi. Grazie, buonasera, grazie. Allora, abbiamo estratto davvero un suo breve intervento in aula, nell'aula del Consiglio Provinciale, riguardante la Valdastico, dove lei, diciamo così, si è spogliato dai panni di Presidente e, diciamo, si è posto sui banchi dei consiglieri. Sentiamo che cosa ha detto sulla Valdastico. Secondo me in questa variante non è stata discusa una cosa interessante. La variante introduce, e non credo ci sia, se so rego tardi, nell'attuale PUP, il famoso sistema multicriteria, così si chiama. Perché questa è stata definita una variante metodologica. Bene, allora abbiamo sentito questo estratto dell'intervento. Ecco, Presidente, perché la decisione di scendere sui banchi del Consiglio? Beh, allora, Valdastico, tematica su cui stiamo dibattendo da giorni in aula consigliare, tante sedute, un tema particolare, molto divisivo, questo è noto. Il Presidente, normalmente, non interviene nel dibattito, però dopo giornate e giornate di lunga discussione, dove ho sentito delle cose estremamente interessanti, ha voluto portare un piccolo apporto. E come dice lei, mi sono spogliato delle vesti del Presidente, sono sceso nei banchi dei consiglieri, da lì ho fatto il mio intervento, che era un intervento, ho dato uno spunto di riflessione, non sono entrato nel merito del sì o del no, ma uno spunto di riflessione, che è quello che si è visto nel video. Io ho parlato di questo metodo multicriteria, previsto dalla variante al PUP, dove praticamente è un metodo che pesa determinati requisiti, determinati criteri, dove appunto serviranno questi criteri, questi requisiti, per definire quale sarà il tracciato finale della Valdastico. Per cui ho voluto dare semplicemente un contributo su un tema, ripeto, che da tanti giorni stiamo dibattendo e che ancora non abbiamo concluso. Sicuramente se ne parlerà ancora in altre sedute del Consiglio Provinciale, ma intanto diamo, Presidente, la parola ai cittadini e alle cittadine. Prima di tutto credo che il tema che stia a cuore a tutti è la sanità. Le attese per le visite, per gli interventi si allungano a dismisura e questo non va bene. Ecco, un tema molto critico quello che riguarda la sanità, proprio perché i cittadini hanno tante aspettative naturalmente e a volte non si hanno le risposte. Tutti noi abbiamo delle aspettative perché la sanità chiaramente riguarda la nostra salute, per cui un bene assolutamente primario. Si sta lavorando molto, l'assessore Tonina, che è l'assessore competente in materia, sta lavorando molto. Bisogna dire alcune perché queste liste di attesa è così importante. Fra l'altro che è una questione tutto a livello nazionale, perché io sentivo l'altro giorno salendo in macchina in radio, in una delle prime interviste del neo governatore Bucci in Liguria, il quale ha posto come uno dei primi problemi lo sfoltimento delle liste di attesa e lui ha citato effettivamente che questo è un problema nazionale. Si sta lavorando molto su questo, ci sono dei miglioramenti, bisogna dirlo. Chiaro che il tappo è stato il Covid, la pandemia purtroppo ha causato un tappo incredibile in quel periodo che ha fatto accumulare le richieste dei cittadini, degli utenti. Questo è uno dei problemi. Un problema che sarà secondo me risolto nel tempo anche grazie alla facoltà di medicina che sta lavorando e sta preparando nuovi medici, perché la carenza di infermieristici e di medici ovviamente c'è, per cui su questo si sta lavorando. Si sta lavorando sulle case di comunità che aiuteranno senz'altro nelle prime visite, per cui case di comunità sparse per il Trentino, secondo me molto interessanti, e poi anche sui medici di base che purtroppo da medici di base si stanno trasformando in burocrati e lì bisogna lavorare per riuscire a mettere in condizione questi medici, questi dottori, di lavorare sul paziente più che sulla burocrazia. Come ultima domanda starei su un tema che riguarda direttamente il Consiglio Provinciale, che sappiamo è il simbolo dell'autonomia trentina. Ecco, voi riguardo a questo avete un progetto proprio che volete valorizzare, per valorizzare l'autonomia. Sì, abbiamo un progetto che si chiama Conosciamo Autonomia, che sta andando avanti da qualche anno, per cui ringrazio in primis tutti i consiglieri provinciali che contribuiscono alla buona riuscita di questo progetto. È rivolto ai giovani, al mondo delle scuole, noi incontriamo migliaia di studenti ogni anno. L'anno scorso ne abbiamo incontrati 5-6 mila, abbiamo parlato di autonomia, far conoscere i valori dell'autonomia ai giovani per noi è importantissimo. Loro sono il nostro futuro, loro devono preservare il valore dell'autonomia del nostro statuto speciale. Dico con soddisfazione che quest'anno abbiamo avuto una richiesta incredibile, in più rispetto agli anni passati. Siamo cresciuti di oltre il 40% di richieste, per cui stiamo cercando di capire anche come gestire ben bene le risorse. Noi abbiamo un gruppo affiatato, uno staff in consiglio provinciale che segue tutto ciò. Stanno lavorando molto bene, stiamo incontrando appunto le scuole dalle primarie fino alle superiori per parlare di autonomia. Riceviamo in sede gli studenti, andiamo a trovarli noi anche sul posto. Abbiamo una serie di progetti all'interno di Conosciamo Autonomia che sono veramente incredibili. Quindi autonomia, valore fondamentale per la comunità trentina, dobbiamo farla conoscere. Grazie Presidente di essere stato con noi. Ringraziamo Claudio Soini, Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. È tutto per questa puntata di Question Time e vi do appuntamento alla prossima. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.